presentiamo oggi la quarta new entry in casa Unione La Rocca Altavilla che risponde al nome di Oleg Turea benvenuto Oleg grazie nella stagione 2017 2018 hai vestito la casacca dell'Arzignano contento di tornare a giocare nel Vicentino a distanza di diversi anni sì perché per me è stata una bella esperienza all'Arzignano con una grande squadra soprattutto con un grande allenatore che ho imparato tanto sia dal punto di vista calcistico che umano e spero che questa sia un'altra annata simile nella tua carriera hai avuto modo di giocare in Serie D ma anche in Lega Pro hai per caso qualche rimpianto di quello che poteva essere e che invece non è stato sei contento così beh sicuramente qualche rimpianto c'è un po' di sfortuna un po' di maturità mancata all'epoca però sicuramente sono comunque contento di come siano andate le cose per la Serie D per la Lega Pro per aver avuto la possibilità di comunque fare una categoria superiore di entrare nei professionisti e spero di successivamente di avere l'opportunità di tornarci ormai l'eccellenza la conosce a mena dito dall'alto della tua esperienza puoi dare delle utili indicazioni in vista del prossimo torneo si sa che comunque è un campionato molto difficile un campionato dove troviamo sempre squadre che ti daranno sempre quel filo da torcere non importa la classifica assolutamente la cosa che in base all'esperienza anche dell'anno scorso che non importa a che giornata sei ma le cose possono cambiare anche alla fine quindi mollare soprattutto alla fine non è non è contemplato diciamo per l'esperienza che ho avuto da quanto sappiamo puoi fare il quarto di centrocampo o anche l'attaccante laterale qual è il ruolo che preferisci io sono nato diciamo da giovane dai primi passi nel calcio grande a 17 anni da centrocampista poi negli anni mi sono adattato facendo anche altri ruoli più che altro per le mie caratteristiche che sono maggiormente la corsa la velocità la forza fisica quindi sì sicuramente ruoli da esterno centrocampo o esterno d'attacco sono ruoli che preferisco più che altro perché riescono riesco a esaltare più che altro le mie qualità come calciatore ti sei appena descritto ma come persona come sei qual è la tua caratteristica principale beh in generale sono un ragazzo molto molto tranquillo non non sono uno che si arrabbia però uno che comunque riflette tanto non non perde mai la testa soprattutto magari in occasioni in partite difficili che questo da una parte mi ha premiato negli anni ma da una parte mi ha anche tolto soprattutto da punti di vista caratteriale e quindi però essendo fatto così caratterialmente non è che puoi cambiare tanto puoi sicuramente migliorare da certi punti di vista quello sì però mi è andata così va bene dai grazie milan leg e ci vediamo presto in campo spero prima possibile più che altro perché è finita diciamo presto e speri sempre di ricominciare il prima possibile perché è uno sport veramente molto bello